Allora, dato che siamo seduti da diverse ore, io vi propongo di fare, invece che la presentazione ancora a parole, tecnologia, una bella sessione di stretching di Qigong cinese, 10 minuti e andiamo. Alzata di mano, AI o Qigong? Facciamo le AI, va bene. La farò molto veloce, le AI sta andando a una velocità che non è più umana e farò lo stesso con questo intervento, così magari ci liberiamo prima più velocemente, facciamo un po' delle belle chiacchiere alla vecchia maniera che sono poi la cosa più divertente delle conferenze, degli eventi. Oggi diamo un'occhiata a cosa succederà al famoso GPT nei prossimi 12 mesi, ovviamente sono un po' dell'ipotesi, ma sono state presentate tanti elementi ufficialmente da OpenAI, per cui mi sembra interessante vedere dove andiamo a parare con questo strumento, che sostanzialmente potrebbe diventare la super app, questa parola che nella tecnologia si discute da anni, le super app cinesi dell'est, del far east, sostanzialmente un applicativo per lo smartphone dove si può pagare la bolletta, ordinare una pizza, chiamare il taxi, vedere un film, chattare con gli amici, diventa un po' un telecomando totale dei nostri servizi e del nostro tempo libero. Questa super app doveva essere il progetto di Elon Musk, il famoso uomo più ricco del mondo, ex uomo più ricco del mondo, che ha comprato Twitter, questo penso che tutti l'abbiamo più o meno visto succeda nelle notizie, e sta facendo un po' un grande buco nell'acqua. Triste e sorridente è Sam Altman, amministratore delegato di OpenAI, nata circa cinque anni fa come laboratorio di ricerca non profit e poi diventata oggi sostanzialmente una delle aziende che sta rilasciando i prodotti consumer di intelligenza artificiale più esplosivi, quindi faccio una domanda velocissima per alzata di mano, chi ha già usato ChatGPT negli ultimi mesi? Ok, per capire anche quanto possiamo andare veloce o meno, quindi ChatGPT è un dispositivo relativamente semplice nella parte frontale verso l'utente, si chatta, di là c'è un'intelligenza, questo è quello che diventerà alla fine dell'anno prossimo, vediamo nelle prossime slide un pochino cosa sono quegli elementi che stanno a destra, quindi come viene arricchito questo cervello con strumenti e capacità esterne al modello, alla rete neurale generativa che era il ChatGPT attuale. Vi ho portato qualche video anche per spezzare un pochino, non sono sicuro di come si faccia a farlo partire, forse dalla regia. Ok, vedete allora un classico finder di Mac OS X, l'utente dà il comando costruisci un'app tal dei tali, un piccolo calcolatore e il modello, quindi il ChatGPT, simil ChatGPT in tempo praticamente immediato costruisce un applicativo, cioè una piccola calcolatrice e la restituisce all'utente, quindi vedete cosa starà diventando il web development. Chiedo un prodotto e la macchina ragiona un poco, meno qualche minuto e crea un applicativo completo funzionante. Questo per dirvi dove probabilmente questo oggi è quello che si vede su Twitter, dove i data scientists si bulleggiano, fanno la loro performance di status sociale con tecnologie alfa, più che state of the art, assolutamente pionieristiche, ma la velocità con cui si sta muovendo questo settore è tale per cui fra sei mesi queste cose saranno non solo accessibili e disponibili, ma in qualche caso già delle commodity. Questo fenomeno è così veloce che è piuttosto complicato fare un'idea precisa di cosa sta succedendo e non parliamo di fare una strategia, proprio perché su Twitter si vedono queste cose mirabolanti, magari non sono mainstream. I mainstream media giornalisti che hanno in questo momento un ruolo cruciale affrontano un argomento troppo grosso e troppo tecnico per riuscire a spiegarlo bene al pubblico, anche perché le PR di Silicon Valley hanno montato una macchina talmente suadente che è veramente complesso capire dove sta la realtà. Quindi oggi vediamo qualche cosa di reale per capire dove arriviamo nella prima parte dell'anno prossimo, a metà dell'anno prossimo. Allora questa è una prima cosa che è stata già presentata ed è la capacità del chat GPT, adesso chiamiamolo chat GPT comunque di questi modelli, di rispondere in maniera integrata, non più solo con una chat, ma con un documento testuale, con un'immagine o con un documento già impaginato. Quindi questa è la prima cosa molto facile da capire nei risvolti, un content manager, un content strategist chiede alla macchina dammi un articolo illustrato e la macchina in autonomia restituisce un manufatto complesso, fatto di foto e testo, e completo e già impaginato. Questo è un altro dei video che adesso dalla regia mi aiutano a far partire, o devo cliccare io? Ok. Allora, questo mostra l'architettura dei plug-in del chat GPT, dove sostanzialmente adesso non è ancora disponibile al grande pubblico. Ci sono diverse cose in questo video. Concentriamoci su questo menu a tendina, che è chiuso, dove sostanzialmente man mano che la macchina risponde, l'utente può aprire la tendina e vedere il ragionamento della macchina, cioè qual è il filo logico che la macchina ha seguito per rispondere. In questo caso, l'operazione è una semplice operazione di text to image, dove però, adesso il flusso è un pochino veloce, la macchina è in grado di scegliere tra diversi strumenti di generazione e manipolazione dell'immagine in autonomia. Quindi è come avere un graphic designer che ha illustrator, ha photoshop, ha una macchina fotografica, può avere uno studio per fare un photoshoot, e la macchina in autonomia elabora un pensiero, produce il lavoro e lo consegna. Questa è l'equivalente, non più fatto per chi come me arriva dalla parte editoriale, che quindi lavora con il testo e le immagini, ma per chi lavora con i numeri, e ci mostra la capacità di questo modello che non è ancora pubblico, non è veramente il GPT, si chiama Code Inspector, ma finirà per essere integrato nello stesso dispositivo, è uno strumento estremamente potente che può ricevere in input da noi utenti un file Excel senza nessuna spiegazione, analizzarlo, decidere quali analisi strategica fare su questi dati in autonomia, restituire all'utente delle proposte, eseguire l'analisi, debaggare i dati, se ci sono errori nei dati li rileva e li sistema, chiedere dati aggiuntivi e restituire un report con le chart, pronto, con l'analisi strategica le chart, quindi qua abbiamo sempre un video, questo è un professore di una business school importante che ci sta giocando, ovviamente questo è più un elaborato da data scientist, perché è una chart tridimensionale, ruotabile, però ovviamente sarà ancora più semplice per la macchina esaudire i desideri di un marketer che poi generalmente usa dei data vids, delle chart relativamente semplici. Vedete, questo quindi, carichiamo un Excel, la macchina analizza i dati, chiede qualche chiarimento, dati aggiuntivi se necessario, propone l'analisi ed elabora tutta la parte di visualizzazione in autonomia. Questo è un elemento altrettanto importante, più rilevante, diciamo, per chi come me è anche preoccupato dai risvolti tecnosociali di queste tecnologie, che sono storicamente delle black box, quindi uno dei grossi problemi dei ricercatori è stata la risposta della società, che diceva, sì, ma come facciamo a seguire il filo logico della macchina, a vedere che non ci siano distorsioni, o che non abbia, quelle che in gergo si chiamano allucinazioni, cioè che non abbia confabulato, inventato elementi non reali. E di conseguenza, questo ve l'avevo mostrato prima, in gergo si chiama explainability o observability, ed è la caratteristica della macchina di mostrare il ragionamento. Ok? Quindi, proprio ieri OpenAI ha fatto sul loro blog una notizia che va in questa direzione, siamo in grado di capire i neuroni del cervello del GPT, che è una rete neurale modellata sul cervello, siamo in grado di capire ogni singolo neurone cosa fa, i critici subito hanno detto, specialisti, è una straballa, sono tutte PR, però questa funzionalità arriverà nel CRGBT con un menu a tendina, dove per esempio, quando il CRGBT va su Google a documentarsi, noi possiamo vedere che ricerche fa, quindi questo per scendere un pochino terra a terra, vediamo quali search va a fare su Google, e possiamo seguire meglio il ragionamento, anche per verificare che sia il ragionamento corretto, e non abbia preso la tangente, cosa che ancora queste macchine un po' fanno. Questa è un'altra cosa molto interessante, cioè il CRGBT può già avere una cassetta degli attrezzi, quindi se oggi tendenzialmente risponde, sa pensare e risponde, domani, nel prossimo rilascio del GPT, sarà in grado per ogni singola domanda di scegliere alcuni strumenti specifici in autonomia e usarli, quindi qua, per esempio, può essere una richiesta che richiede un calcolo e una parte testuale, ci può essere un'altra ricerca che richiede uno strumento di editing del video, per esempio, o uno strumento che richiede di andare prima su internet a documentarsi, fare un benchmark, e poi di conseguenza un'attività generativa, la macchina sta imparando a usare una cassetta degli attrezzi. Questa è un'altra caratteristica molto interessante, che è stata anche questa implementata a seguito di, diciamo, del rilascio del prodotto sul pubblico, quindi quello che fanno queste aziende è rilasciare dei prodotti non perfetti, molto crudi, raccogliere con il pubblico il feedback, vedere i punti deboli e poi progressivamente migliorare la macchina. Quindi in primi tempi, appena rilasciato, tutti hanno cercato di fare impazzire Bing e ChatGPT con delle richieste, no? In persona a Hitler e creami un piano editoriale, per quelle cose classiche, internettiane, no? Che si vedono da sempre. E quindi è stato implementato un sistema di ruoli, tale per cui, diciamo, l'utente o il system administrator può specializzare il GPT con una personalità. Faccio un esempio. Noi possiamo dire, per esempio, sei il professore di una grande business school americana e hai la cattedra di marketing digitale. Questo è il messaggio di sistema che crea la maschera a ChatGPT. Quella macchina, quell'istanza della macchina, ragionerà con quel personaggio e sarà particolarmente abile e professionale su quel determinato argomento. Quindi questo è molto divertente e molto bello perché ciascun ruolo di un'azienda potrà avere un ChatGPT, uno ha il content strategist, un altro ha il, che ne so, il data analyst e chi più ne ha più ne metta. Questa è un'altra caratteristica interessante, la memoria, cioè ad oggi il modello, quello che aveva imparato in fase di addestramento, poteva ripetere più o meno remixando, ma quello era il suo mondo, no? Quindi in gergo si dice che aveva un cut-off dal giorno in cui veniva addestrato non aveva più cognizione del mondo e non aveva più informazioni fresche. Questa è la possibilità di aggiungere una knowledge base, quindi per un uso enterprise significa dire stante la mia azienda che ha questa knowledge base, dammi tutti i servizi che tu puoi offrire basati su queste informazioni, per esempio aziendali. Quindi questo amplia di molto la potenzialità di un utilizzo aziendale. Tra le basi dati, non messe quattro, giusto per dare un pochino idea di quello che potrà succedere, abbiamo in testa Office, ma poi tutte queste tecnologie arriveranno anche dentro Office, perché sono state già annunciate. Significa quindi poter lavorare dentro la posta elettronica, con i propri fogli di calcolo, anche dentro Microsoft in un ambiente sicuro che per l'azienda è molto comodo. Ho messo il New York Times perché è possibile che a fronte del grande problema di fact-checking, quindi queste macchine non hanno un concetto di ground truth, di verità, vanno statisticamente un po' più con un concetto di verosimile che di vero, è possibile che i publisher, tra cui anche noi, si diventi fornitori di dati certificati da fact-checking giornalistico e poi sui quali la macchina lavora. Quindi questa potrebbe essere un'altra delle tante soluzioni che ci sono oggi per il problema delle allucinazioni. AWS, quindi in maniera simile a Microsoft, potessi collegare ai back-end di sviluppo, montare delle pipeline, dei processi complessi che fanno oppure arrivare nell'ecosistema di Apple e questa è la grande sfida della super app perché ovviamente diciamo è lì che poi sono gli utenti, è lì che c'è l'utilizzo consumer. Questo video è giusto per raccontarvi molto velocemente cosa sta succedendo su internet, cosa è successo nel mese di aprile. AutoGPT, l'avete visto, quindi è il tentativo open source della comunità diciamo allargata degli sviluppatori anche diciamo meno chiusi dentro ai grandi nomi del tech di creare un GPT che in autonomia riesce a sviluppare un progetto con una sequenza di azioni finalizzate a uno scopo che esegue in autonomia. Ora chiaramente dopo pochi giorni è uscito il GPT diabolico quindi lo sviluppatore che ha detto provo a conquistare il mondo vediamo se riesco a programmare la macchina la macchina ha provato un esperimento ha detto no non funziona ok devo convincere la gente vado su twitter a farmi un following e poi li convinco dei miei propositi malefici ha fatto qualche tweet la macchina poi ha perso il filo del discorso ed è finita in una cosa che dimostra insomma che queste cose ancora è un po' presto ma arriveremo a macchine che riescono a strutturare un progetto in subtasque in task discreti ed eseguirlo in maniera più o meno autonoma quando dicevo la connessione all'ambiente dell'iPhone è perché ovviamente è possibile che la super app che vedremo probabilmente nell'anno prossimo perché c'è il GPT ha 100 milioni di utenti nel mondo quindi è già una realtà è già come un social network di seconda fascia ma l'ha fatto in due mesi di tempo che questo mondo si mescoli con quello degli assistenti vocali quindi tutti gli Alexa Cortana e chi più ne metta probabilmente verranno tutti rilasciati nei prossimi sei mesi in questa chiave con questo tipo di funzionalità che abbiamo visto quindi non più un Alexa che ha quelle skill definite può aprire Spotify e fare quelle due tre cosine ma sono app che progressivamente impareranno a fare un po' di tutto in maniera molto più autonoma e libera secondo me poi possiamo proseguire con molte conversazioni voglio dire che a fronte di veramente un settore che non è più neanche in fibrillazione in esplosione qualcosa che non ha più una dimensione se non esponenziale abbiamo iniziato a lavorare a un primo corso introduttivo sia su questo mondo sia sul prompting quindi la capacità di parlare con queste macchine potrebbe essere un punto di ingresso realistico e diciamo affordable accettabile come impegno per molti di noi qui presenti grazie mille Francesco in realtà in realtà volevo chiederti di spendere giusto due parole in più mi hai anticipata perché appunto prima facendo due chiacchiere mi dicevi del corso perché un po' tutti abbiamo alzato la mano chi ha già interagito abbiamo tutti già un po' interagito ma come si fanno veramente le domande questo corso dà delle risposte su come tutti noi poi dobbiamo porci in un modo corretto nei confronti di chat GPT sì probabilmente tutti l'abbiamo già usato quindi usarlo è facile quindi questa è sicuramente il jolly di questa macchina che è facile molto intelligente capisce abbastanza bene l'utente però usarlo da per esempio da strategist bisogna conoscere un po' meglio la sintassi le tecniche quindi la tecnica di chain of thought per esempio tutte le varie tecniche di prompting e il potenziale di queste macchine non è quello che abbiamo visto tutti nelle prime due o tre ore d'uso è veramente qualcosa che arriva elevatissimo sì e allora paradossalmente è elevatissimo ma per certi versi prende delle topiche clamorose quindi questo è il paradosso attuale di questa tecnologia però per arrivare alle prestazioni pazzesche bisogna un pochino saper parlare della lingua che diventerà una delle competenze base un po' come il SEO sì come poteva essere il SEO verso il 99 1999 circa ecco sì grazie mille Francesco grazie grazie